La Corte Suprema degli Stati Uniti si schiera a sostegno della libertà religiosa dei lavoratori. I giudici si sono pronunciati a favore di una ragazza musulmana che era ricorsa alla giustizia contro Abercrombie e Fitch. La casa di abbigliamento giovanile l'aveva negato un posto di lavoro perché aveva il capo coperto dal velo.